ciao Nicola benvenuto tra noi ciao Andrea grazie mille per l'invito no grazie a te per averlo accettato ovviamente quindi come ci ha detto Teresa insomma tu sei una persona che ha tante tante qualità tante competenze nello specifio per quello che riguarda noi stamattina e a noi ci interessa tutto il il link che abbiamo creato con la SIPNE che questa società italiana di psico neuro endocrino immunologia di cui ora ci parlerai e in particolar modo della costola chiamiamola così della SIPNE che riguarda le discipline corporee te sei osteopata cioè questo è il tuo lavoro principale oltre alle altre tue infinite competenze se ricercatore scientifico ma poi ce lo dirai eccetera e noi come invece operatori sciazzo eh approcciamo il corpo da un punto di vista diverso ma stiamo cercando appunto il dialogo questo linguaggio comune e lo stiamo trovando anche con il linguaggio PNEI e quindi adesso io non perderei altro tempo quindi facciamo andare avanti l'intervista e ti chiederei appunto innanzitutto di parlarci della SIPNE tu so che sei membro del direttivo nazionale della della società italiana e e se oltre a essere coordinatore della commissione delle discipline corporee di cui appunto prima accennavo lascio a te la parola ok grazie mille Andrea allora tra l'altro sì eh mi fa piacere introdurre la SIPNE perché quest'anno nel duemilaventuno celebreremo il ventennale della SIPNE la SIPNE infatti è nata proprio a gennaio del duemilauno a Roma dopo un profondo dibattito eh che si era svolta all'interno della sapienza eh con il nostro presidente onorario che è il professor Francesco Bottaccioli insieme a un insieme di endocrino da un gruppo di endocrinologi e a una trentina di ricercatori dell'università eh al cui interno insomma si trovavano psichiatri immunologi dermatologi e tutta un'altra serie di specialisti di base il dibattito si era incentrato su quelli che sono i fondamenti scientifici culturali ed etici del di una nuova società e quelle che eh diciamo si vennero poste le basi di quella che doveva essere ehm diciamo sì il paradigma da seguire eh per gli anni a venire per la SIPNE quindi una visione olistica eh dell'essere umano una forte critica al riduzionismo all'approccio scientifico di tipo riduzionistico a quella che è l'iperspecializzazione a quella che è anche il centralismo sia dell'ospedale ma anche tutto quanto quello che riguarda il centralismo eh della farmacologia e cercando di favorire nel dibattito che si era svolto insomma l'idea era quella di cercare di favorire una visione integrata sia biomedica che psicologica cioè cercando di far integrare queste due parti no? La componente psichica con quella organica dell'organismo quindi eh eh e cercare di promuovere anche tutto quello che riguardava la prevenzione eh il potenziamento di quelle che sono le conoscenze e le competenze della salute eh dei cittadini e di favorire anche proprio lo sviluppo della democrazia nella scienza e di favorire anche la scienza per la democrazia. Poi questo magari se ne può parlare eh dopo se ne avremo tempo. E uno degli altri aspetti che credo possa essere interessante per ehm per la FISEO è che eh la società scientifica alle sue basi eh aveva messo l'apertura verso le medicine antiche su una base eh di una verifica rigorosa da un punto di vista scientifico. Ecco queste erano le caratteristiche principali e ad oggi la SIP ne si è notevolmente sviluppata tant'è che eh è entrata proprio all'interno delle università e sta favorendo questo tipo di visione nelle formazioni universitarie e ci sono tante iniziative che poi eh magari eh avremo tempo di di vedere. Grazie Nicola ci hai dato due o tre spunti interessanti. Mi è piaciuto questo passaggio passaggio finale della democrazia della scienza e scienza per la democrazia perché penso che sia proprio un momento storico cruciale questo che stiamo vivendo e proprio lo stiamo proprio sperimentando e cioè proprio sulla nostra pelle l'importanza di questo di questo felice dialogo che ci deve essere insomma. Quindi uno a servizio dell'altra in qualche modo se vogliamo. E per quanto riguarda lo specifico nostro della dello sciazzo io mi ricordo che nel duemila tredici forse se ricordo bene ci siamo trovati addirittura a Firenze nel tuo studio nella nella sala del tuo studio dove abbiamo eh fondato praticamente quella che all'epoca era chiamata fu chiamata area delle tecniche corporee poi eh ribattezzata discipline commissione discipline corporee. E effettivamente come hai detto la grande intuizione fu quella di inserire all'interno di questa area e anche tutte le diciamo le le discipline di origine orientale. Giusto dire di origine orientale perché poi nel frattempo in tutti questi decenni quaranta cinquanta in particolare per lo sciazzo poi delle contaminazioni evolutive ehm dell'Occidente queste discipline le hanno le hanno ricevute non dico subite le hanno ricevute anzi si sono arricchite grazie al pensiero anche occidentale che in qualche modo le ha anche un pochino come dire fatte uscire da una bolla esotica che era iniziale se vogliamo no? E sicuramente il rigore scientifico di cui tu parlavi prima è uno dei vettori evolutivi di queste di queste discipline corporee. Ora dal 2013 adesso siamo nel 2021 quindi degli anni che sono passati e sembrano tanti ma per una disciplina come può essere lo sciazzo che ha origini eh diciamo che si perdono insomma un po' nella notte dei tempi in Oriente otto anni per riadattarsi integrarsi convertirsi e arricchirsi e in Occidente probabilmente sono proprio l'inizio proprio una cioè un battito di ciglia insomma tant'è che adesso noi in seno alla federazione abbiamo abbiamo un gruppo di ricerca specifico attivo ma l'abbiamo costituito nel 2013 proprio nell'organigramma poi si è creato poi si è sciolto poi si è smantellato però nel frattempo i membri si sono formati hanno fatto corsi formativi sul linguaggio PNEI diversi corsi formativi specifici magari per le discipline corporee quindi come dire linguaggio PNEI declinato ehm nelle discipline nelle nelle discipline corporee negli obiettivi nelle sensibilità specifiche e adesso siamo arrivati a avere un gruppo che è piccolo ma eh vero vero sono passati otto anni tant'è che quest'anno noi e lo dico per chi ci ascolta per i nostri soci ma anche per chi non lo è faremo il primo congresso veramente scientifico che va va verso la definizione della scienza dello sciazzo si terrà a fine giugno dove appunto si parlerà di ricerca scientifica su vari livelli c'è non soltanto quello medico scientifico che comunque ha un grosso una che occupa una grossa fetta ma c'è anche quello culturale il linguaggio e della tradizione nostra insomma per cercare anche di uscire fuori un po' dall'autoreferenzialità del nostro linguaggio dobbiamo cominciare appunto a trovare un linguaggio che faccia da ponte col con la comunità che ci che ci circonda scientifica ovviamente ma accademica e con giornalisti con l'utenza quindi con tutti quindi dobbiamo parlare quando parliamo di di chi di chi non lo conosce nessuno energia non lo conosce nessuno lo stesso nei termini in cui lo intendiamo noi quindi dobbiamo trovare del appunto rifare un po' un glossario e questo è un grosso lavoro che la federazione si è assunta mi fermo qua voglio tornare appunto alle discipline corporee e tu che coordini insieme a Marco Chiera che i nostri soci conoscono perché è stato ospite già altre volte nei nostri convegni e ospite apprezzato e come tu non puoi immaginare ovviamente quindi quali sono un po' le finalità oltre a quelle che ho già detto io di questa commissione di queste discipline corporee quali obiettivi si pone puoi dirlo anche in termini diversi rispetto a quello che ho detto io come vuoi te certo allora intanto sai Andrea che forse era il 2014 se non era il 2013 era il 2014 però in effetti ora che mi ci fai pensare sono passati sette o otto anni è vero quindi non un lasso di tempo breve come incominciano a essere a essere passati vari anni e questa cosa fa anche riflettere no perché poi alla fine come tu sai noi ci troviamo ormai tutti una volta al mese insieme per discutere tutta una serie di attività da promuovere come gruppo di discipline corporee della SIPNEI per effettivamente sette o otto anni insomma incomincia a essere un lasso di tempo interessante da anche l'idea che tutto sommato ci troviamo bene perché spesso e volentieri questi gruppi poi in atto ne muoiono anche velocemente invece sono contento che anzi il gruppo si stia sempre più crescendo noi se ti ricordi ci troviamo in Liguria facendo una riunione come gruppo di coordinamento e come prima punto abbiamo messo nel nostro documento una frase che va a sintetizzare la nostra mission cioè rendi efficace l'atto terapeutico in risonanza con la tua conoscenza questo è un termine fondamentale no secondo quella che era quella che è la nostra visione perché tutte quelle che sono le conoscenze scientifiche poi devono tradursi in atti terapeutici cioè devono cercare di aiutare le persone che stanno intorno a noi e questo lo cerchiamo di promuovere innanzitutto cercando di favorire per i membri di questa commissione un coinvolgimento alle attività che vengono promosse e cercando di favorire anche una formazione costante per tutti i membri per promuovere quella che è effettivamente una cultura con un approccio scientifico alla salute e al benessere che sia rispettoso di quella che è la complessità dell'essere umano e dell'interdipendenza no dei dei fenomeni che come sappiamo lo stato di salute dipende anche dal contesto sociale in cui noi nasciamo cresciamo e poi dopo viviamo quindi la la commissione delle discipline corporee della SIPPINE mira proprio ad aiutare i pazienti affinché questi possano diventare persone attive persone attive nel loro contesto sociale a loro volta quindi possano essere loro stessi promotori di salute e tutto questo avviene appunto attraverso lo studio lo studio dell'apnea ecco io all'interno della della gruppo di discipline corporee come tu sai esistono variare abbiamo poi l'area dell'osteopatia quella dello shatsu abbiamo tutta un'area che fa riferimento alle discipline corporee in ambito psicoterapico abbiamo tutta una serie di sezioni che riguardano i progetti interdisciplinari quindi che prendono eh progetti con professionisti di aree differenti abbiamo tutto il settore delle ginnastiche orientali eh dello sport perché sono tutti comunque ambiti all'interno del quale il corpo eh si trova al centro ecco è vero è vero è molto trasversale tra l'altro c'è anche il gruppo trasversale per tutte quelle discipline che come dire che sono espressione di di sensibilità specifiche che perché non hanno trovato ancora un raggruppamento però ovviamente possono essere accomunate appunto dal linguaggio PNEI e dall'obiettivo e quindi questo ci dà la misura di quanto sia importante cioè il numero delle aree intendo dire proprio la quantità delle aree ci dà una misura di quanto sia importante eh portare attenzione sul corpo nel corpo e più di quel che si può pensare quindi l'approccio alla salute non è soltanto una come dire non ha solo il vettore intellettuale che ovviamente la base è la costruzione irrazionale come si chiama teorica ci deve essere però è importante anche saper dialogare col corpo quindi saper saper toccare e leggere i segnali che arrivano dal corpo quindi ognuna di queste discipline ha delle sue eh come dire priorità eh che le caratterizzano ed è interessante trovarci insieme perché è un confronto che arricchisce inevitabilmente ogni volta noi abbiamo fatto un paio di anni fa nel 2019 eh a Bologna un incontro dove ci di tutti noi diciamo rappresentanti di queste discipline dove ci siamo confrontati ed è stato molto interessante ognuno ha portato un suo apporto e sicuramente ci siamo confrontati perché lì abbiamo capito forse ancora meglio le varie interconnessioni che ci che ci ligano e anche le varie originalità perché ognuno ha qualcosa di proprio che le altre discipline non hanno ed è giusto che lo come dire che lo tuteli questa la tuteli questa sua questa originalità ma il link sotto la connessione sotto la rete sotto e rimane e cioè la PNEI il linguaggio PNEI diventa un po' uso uso un po' i tuoi termini un tessuto connettivo che lega un po' tutte le le realtà e questo è questo aggiungere una cosa Andrea come come tu ben sai la 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 SIPNEI la società italiana di psico neuroendocrino immunologia studia la PNEI no cioè la psico neuroendocrino immunologia che è quel settore della scienza che studia le relazioni bidirezionali tra quelle che sono le componenti fisiologiche dell'organismo quindi sistema nervoso endocrino immunitario eh e studia appunto come queste componenti fisiologiche interagiscono con la psiche in senso bidirezionale influenzandosi l'uno con l'altro reciprocamente quello che è un aspetto dove devo dire noi abbiamo contribuito in modo importante eh credo che ecco il nostro lavoro sia stato particolarmente interessante perché psiche e sistemi fisiologici eh sì diciamo così possono interagire l'uno con l'altro se esiste un corpo cioè se esiste un ambiente che permette questo tipo di comunicazione quindi in realtà la SIPNEI l'APNEI studia anche le relazioni bidirezionali tra questi sistemi fisiologici e la psiche con il corpo e a questi si influenzano a loro volta in senso bidirezionale cioè il corpo cambia la funzione dei nostri organi e della psiche ed è vero anche il contrario che la psiche la funzione dei nostri organi cambia la struttura del nostro corpo è così esattamente così e la bidirezionalità di cui parlavi te lo metterei proprio come principio evolutivo fra tutti i principi che organizzano l'esistenza perché pensare a uni a una direzione sola l'unidirezionalità dove dove un soggetto influenza l'altro senza essere a sua volta influenzato o dove un sistema influenza l'altro senza essere a sua volta influenzato ormai ci stiamo rendendo conto che è una visione sbagliata semplicemente sbagliata perché perché un ritorno un feedback c'è sempre puoi apprezzare la qualità o meglio conosce questo è il passo successivo però c'è sempre l'aspetto ecco che che vorrei a guarda calza a pennello con un altro tema che tu sai che per me è molto molto sentito l'uscire proprio anche da osteopata dalla visione biomeccanica del corpo no che è fortemente riduzionistico come tipo di approccio noi intendiamo il corpo come gruppo discipline corporee non come struttura che permette alla persona di muoversi e quindi di flettersi ma intendiamo il corpo come il mezzo attraverso il quale andiamo a manifestare quelle che sono le nostre qualità umane e la nostra personale unicità perché la personalità il nostro intelletto la nostra immaginazione la nostra creatività ma anche la capacità di esprimere emozioni di esprimere amore di esprimere quelli che sono i nostri valori le nostre idee filosofiche avviene attraverso un comportamento e quindi il comportamento lo si attua attraverso il corpo e quindi attraverso il nostro la nostra struttura muscolo scheletrica che noi appunto riusciamo a svolgere quelle attività quotidiane che ci contraddistinguono come esseri umani nella ognuno nella sua individualità è così assolutamente sì assolutamente sì e questo penso sia proprio alla base del di quello che tu dicevi prima scienza per la democrazia democrazia per la scienza perché se noi mettiamo dentro la salute oltre l'aspetto biologico il corpo ci mettiamo l'aspetto psichico e quindi l'ambiente quindi l'aspetto sociale e l'epigenetica ormai questo ce lo insegna da tempo e automaticamente dobbiamo dire è ovvio che se si distorce diciamo questa l'equilibrio fra questi elementi fra queste variabili e si crea sofferenza si va fuori da dalla salute quindi deve essere più saluto genico l'intervento o lo stile di vita invece deve essere sempre rispettato e e quindi si scivola automaticamente anche in un discorso e di democratico nel senso proprio più ampio del termine non soltanto politico ovviamente no cioè proprio il riconoscimento che poi e quindi dal mio punto di vista è l'olismo poi in qualche modo no ogni ogni piccola cellula ha il suo valore quindi questo noi lo sappiamo è influenza oltre a essere influenzato certo siamo spinti molto in alto mi sembra no però sono temi su cui noi dibattiamo da 7 8 anni infatti trovarmi con te che noi ci troviamo da 7 8 anni mi viene naturale parlare di queste cose insomma perché alla fine poi è così senti a questo punto aggiungerei un'ulteriore informazione relativamente al legame che abbiamo con noi federazione con la con la SIPNI quindi ricordando ai nostri soci che noi abbiamo fatto una convenzione ormai dal dal 2013 con la quale i nostri i nostri soci sono equiparati non sono soci della SIPNI perché io consiglio a tutti i nostri soci di farsi soci della SIPNI per cominciare a entrare un po' anche soltanto per ricevere le riviste e poi vedere cosa quali porte si aprono magari farà anche corsi base formativi perché anche se poi dopo uno non farà mai il ricercatore già farsi un corso base gli apre la mente e capisce che il mondo intorno a lui la comunità scientifica ma anche gli altri professionisti attorno a lui vanno nella stessa direzione parlando lingue diverse ma vanno nella stessa direzione e quindi noi abbiamo dato la possibilità grazie a voi del direttivo della SIPNI di di accedere a agli eventi della della società scientifica essendo equiparati per quanto riguarda i pagamenti della quota ai soci e quest'anno che è il ventennale ci sono diversi eventi ora noi abbiamo già gireremo e abbiamo già girato un po' l'elenco delle delle vostre cioè delle iniziative che la società farà se vuoi dire se vuoi dire qualcosa magari se non ti ricordi tutti gli eventi però parlare un po' di di a spot di quelli che saranno sì 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 beh devo dire che purtroppo la pandemia ha ha limitato notevolmente tutto quella che è la massiccia attività congressuale formativa che la SIPNI porta avanti da anni però in occasione di questo in di questo ventennale il direttivo nazionale ha deciso di proporre una serie di webinar gratuiti per i soci della SIPNI e quindi immagino anche per quelli fisieo o comunque a basso costo eventualmente volesse partecipare i temi principali che saranno affrontati saranno questi cioè ci saranno quattro webinar di quattro ore ciascuno quindi anche piuttosto approfonditi sulle basi dell'immunologia in ottica apnei e questo è sembrato a tutto il direttivo nazionale un tema fondamentale visto anche il contesto pandemico che stiamo che stiamo vivendo sul settore dell'immunologia c'è un po' di confusione ecco e quindi siccome all'interno della SIPNI ci sono docenti universitari che si occupano proprio di immunologia il primo tema che verrà affrontato a giugno del 2021 sarà proprio sul settore immunologico il secondo gruppo di webinar riguarderà l'alimentazione la nutriceutica e la fitoterapia in ottica psicologica quindi si vede no questa interazione tra le varie parti e anche qui saranno tre webinar anche in questo caso di quattro ore ciascuno poi dovrebbe essere fatto perché il programma in fase proprio di strutturazioni in questo periodo un approfondimento su quello che è la medicina tradizionale cinese e quindi si parlerà immagino principalmente di agupuntura però probabilmente spazzerà l'argomento e poi ci sarà una sezione dedicata proprio a noi al gruppo di discipline corporee quindi il tema centrale da cui partirà poi tutto il dibattito riguarderà le membrane dell'organismo umano e perché perché il tema centrale sarà sicuro da cui partirà poi tutto il dibattito sarà lo studio della fascia che per chi fa lo steopata è una struttura del corpo fondamentale da trattare ma sembra che sia anche quella all'interno della quale delle quali scorrono tutta una serie di correnti elettriche che sono quelle su cui l'agopuntore o l'operatore sciazzo eccetera fa delle stimolazioni attraverso i propri atti terapeutici manipolativi o quelli che comunque vengono fatti nell'ambito delle medicine e delle terapie orientali quindi questo sarà il quarto tema che si svilupperà a ottobre del 2021 oltre a questo si svolgerà a brevissimo il 15 e il 16 novembre la prima parte del congresso della sipnei tu sai che doveva esserci l'anno scorso un grosso congresso della sipnei proprio che in un'ottica clinica cioè l'ottica era di fare tre giornate molto approfondite con una serie di ricercatori ma anche professori universitari e clinici per tradurre i principi della dell'apnei in nella clinica quotidiana quindi vista sotto l'ottica dello psicologo piuttosto che del medico specialista in una branca piuttosto che un'altra chiaramente il congresso è saltato e attraverso vari step diciamo così siamo dovuti arrivare a dividere il congresso in due parti uno che sarà fatto in presenza il prossimo anno a Firenze e uno invece che sarà fatto in online appunto il 15 e il 16 di maggio e qui ci saranno varie sessioni che andranno ad affrontare ad approfondire un tema a mio avviso centrale fondamentale che credo tu condivida quello che è lo studio delle prime fasi della vita e quello che poi sono le conseguenze della salute mentale dell'adulto quindi vedere in ottica proprio epigenetica come lo stile di vita nelle prime fasi della vita nel periodo perinatale vada a modificare il comportamento e lo bene ora siamo in chiusura e noi come come disciplina corporea orientale abbiamo già detto per noi è naturale parlare di corpo mente e tu ci hai dato tutta una serie di elementi e di riflessioni su come anche l'occidente si sta evolvendo in questa direzione ormai da tempo non è una cosa di qualche anno anche nella filosofia greca antica c'era già questa poi si è un po' presa un'altra strada tu hai parlato giustamente di riduzionismo c'è tutta la storia che che parla che parla per noi non c'è bisogno di dire niente no ora si sta recuperando e infatti mi piacerebbe sottolineare questo aspetto proprio questo questo forte legame che che la che la sipnei promuove fra psiche e e corpo insomma diciamo tant'è che c'è all'interno del nostro della nostra disciplina del nostro commissione del disciplina corporea c'è una grossa area e occupata appunto dalle dalla psicologia in senso proprio più esteso ci vuoi dire due due parole giusto due certo allora guarda intanto diciamo che l'area della l'area psicologica all'interno della sipnei è un'area estremamente importante tant'è che il fondatore della sipnei professor francesco bottaccioli tra le anche una laurea in psicologia e l'ex presidente della sipnei che è il professor lazari è l'attuale presidente dell'ordine degli psicologi quindi già questo dà l'idea di quanto la componente sì psicologica sia centrale nel mondo pnei però ecco questo può essere un aspetto interessante proprio uno degli obiettivi della sipnei è quello di cercare di superare quella contrapposizione storica che da un punto di vista filosofico ha creato questa scissione no nel corso degli anni tra mente e corpo e scientifica praticamente novecentesca tra divisione che ha portato avanti la divisione tra la medicina e la psicologia quindi la sipnei cerca di superare i rispettivi riduzionisti e di riduzionismi e quindi di favorire un linguaggio che permetta allo psicologo di capire le influenze della sua terapia nel corpo e viceversa a chi lavora sul corpo di capire le influenze sul sulla componente psicologica è così e questo è proprio l'elemento che più ci avvicina a voi perché lo shatsu col suo linguaggio ovviamente con la sua con la sua tecnica la sua esperienza con la sua scienza che adesso stiamo via via del sempre più definendo e fa la stessa cosa da sempre certo tra l'altro nel nostro gruppo discipline corporee quello che noi cerchiamo di portare avanti nell'ambito appunto psicologico è questa relazione bidirezionale tra psiche e come abbiamo detto prima struttura del corpo no anche perché come dicevano foco vale vale la ogni azione è proprio conoscenza e la conoscenza è prima di tutto azione del corpo nel mondo cioè ogni conoscenza è la capacità dell'organismo di attuare con successo un comportamento e quindi vedi che l'uovo psiche sistemi fisiologici struttura del corpo non possono essere scissi sono un tutt'uno come tale devono essere poi analizzate e studiate è così cioè al fine si finisce naturalmente verso queste conclusioni basta allargare allargare il campo d'osservazione e vediamo che tutto porta lì sì va bene che io io penserei che a questo punto possiamo anche salutare chi ha avuto la pazienza ad ascoltarci se hai qualcosa da aggiungere puoi sempre farlo no non ho altro da aggiungere guarda andrea è foro guarda ora che mi viene in mente aggiungerei una piccola cosa e chi viene dal nostro settore tra virgolette un settore alternativo anche se un termine che come te sai a me non piace piace sempre parlare di complementarietà c'è l'idea che la scienza medica vada in una direzione e invece chi ha una visione olistica vada in una direzione opposta in realtà come tu sai non è assolutamente così oggi nel mondo scientifico si parla sempre più di complessità anzi c'è proprio un riconoscimento della complessità intesa come approccio sistemico anche alla ricerca l'ottica quindi non è più quella di andare a studiare sempre più nel dettaglio le singole componenti ad esempio del corpo umano ma di andare ad analizzare le proprietà che emergono dall'interazione dalle singole parti e quindi questo è un aspetto io credo fondamentale perché se no ci mette sempre in un'ottica di contrapposizione in realtà la scienza contemporanea sta sforzandosi sempre di più di studiare la complessità e di abbandonare quelli che sono dei sistemi deterministici e prevedibili sono d'accordissimo su questa cosa io ho la sensazione ma queste sono intuizioni personali che tutte le scienze umanistiche mediche cioè che sono tutte specializzazioni si pensiamo la sociologia antropologia la filosofia sono tutte specializzazioni però fanno parte un po del sono un po il prodotto del nostro pensiero di spacchettare la realtà in qualche modo no e in realtà si andrà verso una convergenza verso una scienza chiamiamolo così della complessità che già se ne parla ovviamente no proprio in questi termini perché la complessità non è spacchettabile bisogna anche saperla conoscere saperla leggere e questo è un po la grande sfida del futuro dell'umanità senza fare grandi però secondo me insomma questa è ecco certo nicola io ti saluto ti ringrazio tanto noi ci vediamo qua a firenze e lavoriamo uno di fronte all'altro quindi ci rincontreremo presto appena appena ci mettono in giallo si mangia qualcosa ok io andrea volevo ringraziare te per l'invito e tutta la fisieo perché insomma è sempre piacere è sempre un grande piacere da parte per me essere ospite vostro grazie a te grazie a te a presto ciao ciao